Primo punto stagionale per l'Arezzo calcio femminile nel debutto casalingo contro la squadra veneta del Gordige nell'incontro valido per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B. Lo 0-0 finale rimane stretto alla squadra di Manuela Tesse, vista le numerose occasioni create nel corso della partita. L'Arezzo scende in campo con un 4-3-2-1, modulo più volte variato a match in corso. Baracchi alle spalle di Di Fiore, unico baluardo offensivo della squadra di casa, per l'occasione in completo rosa bianco, mentre in difesa confermate centrali Teci e Eterini con Casulla e Mencucci pronte a spingere sulle fasce. Il match inizia subito forte per l'Arezzo che fin dai primi minuti lascia intendere al numeroso pubblico presente allo stadio Laurentini di Pescaiola le intenzioni di mettere a segno nel calendario la prima vittoria stagionale. Tutte le azioni passano dai piedi di Verdi, abile a tessere le trame di gioco dell'Arezzo con verticalizzazioni e lanci per gli esterni. Nonostante il Gordige non riesca mai ad arrivare dalle parti di Antonelli, nella prima frazione di gioco la prima vera occasione dell'Arezzo arriva solo al 25esimo, calcio di punizione della trequarti calciato da Casulla, conclusione di potenza deviata in angolo da Cattelan. La squadra di Tesse spinge e pressa fino al 45esimo, ma per una serie di errori in fase di costruzione, per il buon piazzamento in campo della formazione ospite, il direttore di Gara manda tutti negli spogliatori sul risultato di 0-0. Dopo un primo tempo senza respiro, Bernardi, l'allenatore ospite, decide di correre ripari inserendo Sturaro al posto di una spenta Cerato, ma il copione non cambia. Al terzo minuto, bella triangolazione tra Verdi e Casulla con quest'ultima che manda di fiori a tu per tu con Cattelan, ma la conclusione della numero 11 dell'Arezzo si infrange incredibilmente sulla traversa. Poco dopo è ancora di fiore a provarci con una bella girata di destro sul traversone di Arzedi, ma è ancora bravissima Cattelan a negare la gioia e la rete del vantaggio alle Amaranto. A metà ripresa, nell'unico momento di non controllo della gara da parte dell'Arezzo, si registra la prima conclusione in porta del Gordige con il sinistro di Sturaro dopo un bel dribbling in aria. Antonelli però para centralmente. Nella ripartenza successiva, Verdi verticalizza benissimo per la neoentrata Mattiacci, che prova il tiro di controbalzo da dentro l'area di rigore, la palla termina altissima sopra la porta del Gordige. Si sosseguono altri forcing della squadra di casa, ma il poco cinismo sottoporta e una serie di errori in fase offensiva, grazie alla squadra ospite che torna a casa con un punto d'oro. Siamo qui con Emanuella Tessa, l'attrice dell'Arezzo Calcio Femminile. Emanuella, a quest'oggi tante occasioni, ma alla fine è solo un punto. Sì, abbiamo provato a casa solo un punto, è una partita che dovevamo assolutamente vincere, visto le occasioni create, visto i calci piazzati che abbiamo avuto a Fadore, considerate soltanto 11 calci d'angolo a favore, una traversa e bisogna migliorare in questo, le partite che si possono vincere e si devono vincere se ti vuoi salvare. Questo è un punto, un pareggio dove poter ripartire, dove poter lavorare per ripartire, per cercare di raggiungere il traguardo, la salvezza o anche qualcosina di più. Sì, quello che bisogna cambiare qui è la mentalità. Mentalità, bisogna iniziare ad avere una mentalità vincente, perché non si può partire perdenti già in campo solo perché siamo una matricola. Abbiamo mostrato di saper giocare bene al calcio e dobbiamo concretizzare tutte le occasioni che ci creiamo, perché lavoriamo tutti i giorni, ce le creiamo, dobbiamo concretizzare assolutamente. Stiamo qui con Stefano Bernardi, natore del Gordice. Allora, quest'oggi è un punto d'oro, diciamo qua ad Arezzo. Ma per noi oggi si può dire che non è un punto, sono tre, perché non abbiamo indovinato una partita, anzi, l'ha fatta quasi sempre l'Arezzo, complimenti, perché anche se è una squadra giovane, però l'ho vista, bella pimpante, che cerca di giocare. Il campeonato di Serie B è tosto perché trovi sempre squadre, magari qualcuna che gioca bene al calcio, qualcuna che è un po' più fisica. E noi diciamo che anche l'anno scorso siamo nella parte bassa della classifica, centro-bassa, però tutte le partite ce le giochiamo e cerchiamo di fare bene. Comunque complimenti all'Arezzo che ha fatto un'ottima partita. Quindi dopo un nono posto della scuola stagione, l'obiettivo di quest'anno sarà comunque mantenere sempre la salvezza. Sì, per noi siamo una società che non ha degli obiettivi importanti come tante altre società, altre squadre, puntiamo alla salvezza e ogni domenica cerchiamo di portare via punti sui campi che andiamo a giocare, che è sempre difficile tutte le domeniche.